È un bilancio sicuramente che non ci soddisfa. È un bilancio difficile, abbiamo fatto difficoltà a chiudere un bilancio in pareggio. Un bilancio prudente e non gratificante, ma allo stesso tempo sano e responsabile. Le difficoltà economiche si fanno sentire anche su Palazzo Rosso, che mercoledì porterà in aula il bilancio previsionale 2024-2026. Un previsionale che cerca di proteggere il sociale, sacrificando altre attività, con la speranza di poter intervenire in corso d'anno. Credo che il 2024 possa darci un buon auspicio. È chiaro che le difficoltà che ci sono state, che ci sono a livello nazionale ma anche mondiale, incidono molto in questi bilanci. E i comuni sono quelli sempre più penalizzati. Quando la coperta è corta tu devi sicuramente partire da una base, che è quella che tu pensi possa fungere proprio da livello minimo. Per poi, durante l'anno, qualsiasi entrate, come abbiamo detto, dobbiamo andare a implementare queste voci, che sicuramente sono fondamentali e funzionali per il Comune. Tra i settori da sostenere, oltre al sociale, è quello delle manutenzioni. Mentre per ora pagheranno ambiti come il turismo, nonostante i 70.000 euro di maggiori entrate previste con l'aumento dell'imposta di soggiorno, lo sport e la cultura. Colorano di 2 milioni e mezzo le entrate, colpa del taglio e trasferimenti statali. Si alleggerisce, ma resta comunque importante, il peso dei corsi energetici. Confermati gli aumenti per abbonamenti e tariffe, parcheggi di Lambioi e Metropolis. L'amministrazione difende poi la revisione degli scaglioni IRPEF. Va addirittura nella fascia di entrata, anzi a diminuire quello che è il gettito, sulle fasce più alte magari un po' di più. Quindi questa è stata la nostra politica di limatura in ogni voce, di andare poi a eliminare le spese superflue e alla fine siamo riusciti a chiudere questo bilancio che porteremo mercoledì in Consiglio per approvarlo. Facendo riferimento ai dati 2020, oltre 10.000 persone con redditi fino a 28.000 euro risparmieranno 1 euro di IRPEF all'anno, mentre i redditi superiori ai 28.000 euro spenderanno 3 euro in più per un gettito stimato in crescita di 200.000 euro. Scelte economiche e soprattutto politiche che animeranno il Consiglio Comunale di mercoledì, tanto che i lavori inizieranno già in mattinata. Scelte economiche e soprattutto politiche che animeranno il Consiglio Comunale di mercoledì,